Oggi andiamo a eseguire la divisione con le misure degli angoli. In 207 gradi il 9 ci sta 23 volte, resto 0, quindi 23 gradi. In 36 primi ci sta 4 volte, resto 0, quindi 4 primi. In 54 secondi ci sta 6 volte, resto 0, quindi 6 secondi. Andiamo invece a eseguire quest'altra divisione. In 69 gradi l'8 ci sta 8 volte, 8 per 8 fa 64, resto di 5 gradi, che andiamo a trasformare in primi, eseguendo per 60 e ottenendo 300 primi. Che sommati a quelli che precedentemente avevamo, otteniamo 335 primi. L'8 nel 335 ci sta 41 volte, 41 per 8 fa 328, resto 7 primi. Che andiamo a trasformare in secondi, eseguendo 7 per 60 e ottenendo 420 secondi, che sommati a quelli che precedentemente avevamo, vanno ad esultare 456 secondi. L'8 nel 456 ci sta 57 volte, senza resto.